se lascio un bel like ti andrò a regalare una ricompensa di questo bando però me raccomando tu lascio un bel like quindi questo aspettando lascia bellissimo la cura perché esattamente a 50 like prenderò uno di voi chi mi lascia il cd qui sotto nei commenti quindi vanno a lasciare ora e andrò a regalare una di quelle ricompense beh raga è uscito una skin che non uscirà mai più nel negozio e sto parlando di aura di campionata appunto questo skin che possiamo vedere qua che non uscirà mai più a parte chi l'ha preso facendo il torneo mi raccomando codici coding gamer c2 lasciati di qui sotto nei commenti lascia un bel like 15 ragazzi bye